Cardinale, che cosa è emerso secondo lei dai lavori di questi giorni? Io sono molto contento perché ho potuto approfondire la conoscenza tra le chiese che sono attorno al Mediterraneo. Concretamente sono molto colpito di conoscere le sofferenze che passano le chiese del Medio Oriente, del prossimo Oriente. Ma anche sono contento che le nostre chiese del nord dell'Africa, che sono quasi invisibili, grazie a questo incontro sono tornate un po' più visibili, più conosciute. L'Algeria, il Marocco, la Libia, la Tunisia. Questo mi fa piacere e sono contento. C'è necessità, secondo lei, di una conoscenza maggiore anche dei problemi dell'Africa del nord nei paesi europei? Penso che noi abbiamo qualche cosa a dire alle vecchie chiese dell'Europa. Noi siamo delle chiese insignificanti per la quantità, siamo chiese minuscole, ma abbiamo un significato. Insignificanti ma significative perché abbiamo un messaggio di gioia, di speranza, perché viviamo in minoranza, ma entusiasmati dalla nostra fede. Siamo chiese giovani dove ci trovano più uomini che donne, più giovani che adulti e più neri che bianchi. Viviamo la nostra fede in minoranza, in un ambiente musulmano al quasi 100% e davvero siamo contenti e gioiosi della nostra fede. Grazie.